La bellezza del Salento autentico può essere colta nel piccolo borgo di Specchia Gallone, frazione di Minervino di Lecce. Il paese per diversi secoli fu legato alle vicende del casato dei principi Gallone di Tricase, tra le famiglie nobiliari più ricche del Salento meridionale. Il cinquecentesco palazzo baronale, posizionato lungo il perimetro della piazza del paese, conserva ancora lo stemma araldico dei Gallone, che campeggia al centro della raffinata balaustra laterale. La facciata principale del palazzo riporta invece le insegne della famiglia San Giovanni, casato appartenente alla nobiltà alessanese, feudataria di Specchia in successione ai principi di Tricase. Nella fisionomia dell'edificio si possono riconoscere i vari rifacimenti architettonici elaborati nel corso dei secoli, allo scopo di addolcire e nobilitare un'originaria struttura austera e militaresca. Altri riferimenti alla grammatica araldica del Gallo si possono riscontrare nelle scolpiture del portale della chiesa parrocchiale dedicata a San Biagio, protettore del paese. Suggestiva è l'iconografia secentesca riportata nella decorazione lapidea ispirata al tema della Passio Cristi e al Memento Mori, come la croce, la colonna della fustigazione e il teschio. L'interno si presenta con un'unica navata dominata dal pulpito monumentale interamente realizzato in pietra leccese. L'altare centrale rappresenta un'unicità stilistica nel territorio salentino grazie ai suoi complessi intarsi policrone. Le bellezze pittoriche di Specchia Gallone si concentrano nei cicli parietali conservati nella chiesa di Sant'Anna, un gioiello artistico di alto valore culturale. L'edificio si staglia lungo la strada che conduce a Poggiardo, in posizione periferica rispetto al centro dell'abitato, e presenta esternamente i segni evidenti di importanti modifiche strutturali avvenute nel corso del tempo. All'interno si ammira la raffinatezza pittorica del Cinquecento Salentino, che qui a Sant'Anna si manifesta in rappresentazioni di elevata qualità e maestria. Gli affreschi suddivisi in scena richiamano le vicende del Vangelo e dell'Antico Testamento, raffigurate in maniera chiara e semplice sullo stile della Bibbia paupera. Suggestiva è la rappresentazione del giudizio universale, dipinta lungo la controfacciata della chiesa. L'antica e nobile storia dell'economia agricola di Specchia Gallone riecheggia lungo la strada che conduce a Minervino. Le grandi masterie cinquecentesche si impongono sullo sguardo dei visitatori con le loro facciate monumentali, oggi ristrutturate e riconsegnate al presente. Queste strutture nascondono spesso dei gioielli nel sottosuolo, come ad esempio gli antichi granai di sorprendente dimensione. E' il passato dell'identità salentina che ritorna con la sua bellezza e le sue preziose testimonianze culturali, che a Specchia Gallone rivivono con spontaneità nella cura del di luoghi e nell'accoglienza greca degli abitanti del borgo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.